Ma ci sono degli ebrei che mi scrivono dicendo tu devi andare avanti nel lavoro che stai facendo perché è arrivato il momento che la gente deve sapere. Perché la Bibbia è un libro di guerra. Quello, questo, questo, faceva solo quello. Era capace a fare solo quello. Una persona di un gruppo di studi alla comunità ebraica di Roma, sapete cosa mi ha scritto? Perché è vero, ci sono... Non è andata. Ci sono degli ebrei come quelli di consulenza ebraica che scrivono contro di me, salvo avallando il 90% delle cose che dico. Ma ci sono degli ebrei che mi scrivono dicendo tu devi andare avanti nel lavoro che stai facendo perché è arrivato il momento che la gente deve sapere. Questa persona qui del gruppo di studi alla comunità ebraica di Roma, sapete cosa mi ha scritto? Questo qui era il figlio giovane di uno dei capi, doveva farsi le ossa e dimostrare di che cos'era capace. Pian piano ci arriveremo.